eccomi qua eccomi qua oggi è 20 di ottobre qui località macchia quindi siamo a Lido macchia ecco dove feci il video a maggio dove riempi il retino di cartufi e anche oggi la pesca non è andata male insomma una mezz'ora sott'acqua acqua diciamo non dico geli da 17 gradi circa ecco sono qui 18 19 20 21 mi sono sbagliato vabbè 21 gradi però insomma è una mezz'oretta il mio bottino l'ho comunque realizzato per gli amici di questo splendido yacht non vi dirò eh la privacy eh per essere sicuro faccio vedere ragazzi non ce la faccio se io tiro sul rettino vado sotto acqua io ecco qua eh guardate ragazzi mezz'ora eh abbiamo preparato l'acqua calda avete preparato l'acqua calda mezz'ora solo maschera e tubo io non uso le pine perché sono come i talandesi vado sotto acqua diciamo come natura crea e non me ne frega niente questi sono i tartufi eccoli qua ho la panza però sono molto atletico eh faccio autorino ironia eccoli qua ragazzi questa è tutta salute tartufi di lido macchia number one un coltello è un coltello un coltello veloce nostro uomo capitano un coltello veloce per farvi vedere quanto sono buoni tanto ve l'ho già detto ecco proprio quello da subito io l'ho tirati via con le mani c'è una spina di riccio nel all'interno del mio mignolino taglia 1 2 e 3 vedete come spruzza limoni di sicilia ragazzi è tutto una lavata così in acqua veloce e vi faccio vedere come al solito il mio solito video bisogna saper succhiare ragazzi 1 e 2 20 di ottobre sono sempre il numero 1 un saluto agli amici con cui abbiamo diviso questa bella giornata con un pezzo di pizza una birra queste sono le cose belle della vita ragazzi sono sponso ti ringrazio e ringrazio